Siamo uno dei medici protagonisti di questa struttura che è non a caso chiamata Medical Center. Sono tantissimi gli specialisti che fanno capo alla struttura di fisionadi. Noi oggi abbiamo con noi il dottor Marco Travisini che è oltretutto il direttore sanitario della struttura, un medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia. Quindi con lui affronteremo degli argomenti sicuramente molto interessanti. Grazie a tutti. Dottor Marco Travisini, buonasera. Buonasera. È passato un anno, ci siamo visti l'anno scorso, nel primo ciclo di trasmissioni dedicate a questo check-up obiettivo salute realizzato con fisionadi. Il direttore sanitario di questa struttura quindi ha un anno di esperienza per poter anche dare così una sua idea su come sono trascorsi questi 12 mesi sui tanti passi avanti fatti da fisionadi Medical Center. Certo, è stato sicuramente un anno intenso, un anno come ogni cosa all'inizio ci si deve un po' settare. Dopodiché quando le cose sono fatte bene con cuore e anche con qualità sicuramente i risultati arrivano. Quindi è stato un anno molto ricco di iniziative, di eventi e sempre di più notiamo che la popolazione locale risponde bene a questo progetto. Quindi siamo molto contenti, il centro funziona bene, il centro si è allargato, ha preso nuovi professionisti a completare a 360 gradi tutto ciò che è il nostro mondo di terapia e benessere. E questa è comunque una nota di qualità del centro che ancora ha grande potenzialità. Quindi è bello vedere che da un lato le cose aumentano e crescono e dal lato c'è ancora terreno da fare e quindi c'è ancora un percorso da seguire. Quindi è bello guardare indietro ma anche guardare al futuro che sarà nel prossimo anno. Quindi magari tra un anno quando ci rivedremo ci racconteremo ancora altre cose. Una cosa che le volevo sottolineare è che già avendo parlato con altri collaboratori anche in situazioni esterne c'è un grande senso di orgoglio a lavorare per questa struttura. Sicuramente sì perché per tanti motivi perché il centro è qualitativamente bello. C'è bello anche proprio come stare insieme, come avere la possibilità di fare tante cose e quindi da un lato c'è la qualità, c'è le strutture e c'è la possibilità di fare a 360 gradi veramente un po' tutto. Quindi dalla visita alla terapia, al controllo dopo un intervento, alla diagnostica, all'acqua, alla palestra. Quindi è veramente una fonte di tantissime potenzialità e possibilità. Quindi questa è la bellezza anche di un centro che non è solo pareti ma è anche persone che ci stanno dentro, che mettono il loro contributo. Il dottor Travisini è un medico specializzato in traumatologia, specializzato quindi in cose che riguardano tanti di noi in tante situazioni. E con lui parleremo nello specifico di cartilagini. Sì. Questa cartilagine che così tante volte ci fa soffrire senza che ci rendiamo bene conto di cosa sia ma invece è una parte importantissima delle nostre articolazioni. Certo. Diciamo che il tessuto cartilagino, anzi il tema del trattamento del tessuto cartilagino è un tema estremamente attuale, estremamente affascinante. Proprio perché ci fa dannare e è sempre più difficile la gestione di queste lesioni. Le lesioni fanno parte un po' della nostra vita, come l'invecchiamento. Il tessuto cartilagino riflette un po' anche la nostra età, quindi è molto legato a noi. E una delle articolazioni più soggette a problemi con le cartilagini è il ginocchio, su cui si appoggia praticamente tutto il peso del nostro organismo, dottore. Sì, sì, il ginocchio è la mia passione, è il mondo per cui ho deciso di seguire il mio lavoro, la mia passione. Quindi per me fa parte della mia vita ed è una delle articolazioni un po' che è il nodo del nostro corpo. Quindi da un lato ci permette le rotazioni, le torsioni, ci permette di fare attività sportiva, ci permette di fare dei movimenti complessi. Ed è quindi la mia articolazione quella che di più seguo. E quando si presentano dei problemi alla cartilagina del ginocchio, come ce ne accorgiamo? Ci abbiamo dei segnali, qualcosa per capire che possa essere questo oppure no? Ma assolutamente sì, perché chiaramente la lesione cartilaginia è una lesione che può diventare sintomatica. Magari non sempre lo è all'inizio, ma poi può diventare sintomatica prima di tutto dando dolore. È un dolore che comunque non ci consente di svolgere le nostre attività, soprattutto negli atleti, soprattutto nelle persone anche di mezza età che comunque continuano sempre a fare sport. Quindi insieme al dolore poi si gonfia l'articolazione, c'è versamento, ci sono degli scroci articolari. Tutte sintomi che non fanno svolgere la propria attività in maniera ottimale. E quando iniziano questi sintomi è chiaro che inizia un po' il percorso che ci porterà prima di tutto a capire che tipo di lesione è e poi capire come la trattiamo. E si può trattare anche dal punto di vista fisioterapico e non a caso questa struttura è specializzata anche in questo. Assolutamente sì, assolutamente sì. La lesione cartilaginia è una lesione frequentissima, nel senso che se pensiamo che ci sono delle pubblicazioni che verificano che più del 50% degli interventi che facciamo verifica una lesione cartilaginia che magari non è stata all'inizio diagnosticata. Un paziente viene per una rottura miniscale e poi durante l'intervento notiamo che anche la cartilagine è consumata o comunque è una lesione. Quindi è una lesione estremamente frequente, è una lesione che è difficile da trattare perché il tessuto cartilaginio è un tessuto molto specializzato e molto difficile. Non cicatrizza, non ha tessuto linfatico, non ha tessuto innervazione e quindi difficilmente ripara. E questo è il motivo per cui è estremamente affascinante anche cercare un modo per farlo guarire. Abbiamo un esempio, poi chiudiamo dottore, di un calciatore importantissimo degli anni 80-90, forse uno dei più forti di tutti i tempi, io almeno lo penso così, Marco Van Basten, che ha dovuto interrompere la carriera davvero presto proprio per problemi alla cartilagine. Assolutamente sì, in quel caso parlavamo di caviglia ma il ragionamento è simile. Lì siamo di fronte a una lesione cartilagine che era iniziata in maniera anche lì giovanile, quindi una usura precoce delle cartilagini ed è stata iniziata a trattare prima con trattamenti palliativi, poi con trattamenti tentativi di trattamenti regenerativi. Ma questo per farvi capire la complessità e la difficoltà di guarire, alla fine è stata sacrificata l'articolazione, quindi viene fatto un intervento di artrodesice, quindi è stata un po' bloccata l'articolazione proprio per non far sentire dolore. Questo potete capire quanto dal punto di vista del gesto sportivo limiti un atleta, quindi è estremamente complesso l'argomento e necessita di tante parti, quindi la parte della diagnosi, quindi capire bene il tipo di lesione, la parte del trattamento, capire se c'è un intervento o un trattamento chirurgico che può far comunque riparare la lesione e poi fa parte della riabilitazione, quindi è un protocollo personalizzato per le lesioni cartilagine proprio per cercare di ritornare allo sport. Parleremo di cartilagine anche con altri specialisti di Fisioradi Medical Center. Dottore, grazie tante, alla prossima! Volentieri, salve! Grazie a tutti!